Giacomo Manzù, nome d'arte di Giacomo Manzoni, fu scultore e pittore, nacque a Bergamo il 22 dicembre 1908 e morì ad Aprilia il 17 gennaio 1991. Era il dodicesimo dei figli del calzolaio sagrestano Angelo Manzoni e imparò da giovanissimo a lavorare in tagliare il legno, poi si avvicinò all'arte durante il servizio militare, svolto a Verona nel 1927, dove studiò le porte di San Zeno e i calchi della locale Accademia di Belle Arti. Nel 1929, dopo un breve soggiorno a Parigi, Manzù andò a vivere a Milano, dove l'architetto Giovanni Muzio gli commissionò la decorazione della Cappella dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che eseguì tra il 1931 e il 1932. Poi, nel 1933, espose alla Trenale di Milano una serie di busti che gli valsero molti apprezzamenti e l'anno successivo tenne la sua prima mostra importante alla Galleria Cometa di Roma, assieme al pittore Aligi Sassu, con cui condivise anche lo studio. Nel 1934 sposò Antonia, detta Tina Oreni, dalla quale ebbe tre figli e dalla quale si separerà poi nel 1954. Nel 1938 iniziò la serie dei Cardinali, tema iconografico di tutta la sua carriera. Il primo Cardinale seduto verrà esposto alla Quadrinnale di Roma del 1939, insieme al David, e successivamente acquistato dalla Galleria d'Arte Moderna di Roma. Produrrà più di 300 versioni di questo tema, differenti per dimensioni, posizione e materiali. Fra queste, il Cardinale seduto resta la figura più replicata e famosa della serie. Nel 1940 Manzù ottiene la cattedra di scultura all'Accademia di Belle Arti di Brera, che lascerà, per dissenzi con le autorità accademiche, sul programma di studi per spostarsi ad insegnare scultura all'Accademia Albertina di Torino. Nel dopoguerra torna ad insegnare all'Accademia di Brera, fino al 1954, e quindi alla Sommer Academy di Salisburgo, fino al 1960, dove fa conoscenza con Inge Scabel, che divenne la sua compagna di vita e con cui avrà due figli. Lei e la sorella Sonia diventeranno anche le modelle di tutti i suoi ritratti. In quel periodo iniziò a lavorare, insieme ad Alfredo Biaggini, alla realizzazione della Porta della Morte per la Basilica di San Pietro in Vaticano, che impegnò l'artista dal 1947 al 1964, divenne l'epicentro di una poetica che, nel dialogare con la tradizione, ne rifiuta gli aspetti più strettamente accademici. Nel 1964 Manzù andò a vivere in una villa vicino Ardea, o Ardea, in provincia di Roma, nella località in Campo del Fico, nella frazione di Fossignano, adiacente all'antica rocca di Ardea, ma nel comune di Aprilia. La località fra Ardea e Aprilia è oggi stata ribattezzata, appunto, Colle Manzù. Dopo circa dieci anni di basso lievi, tornò all'opera a figura intera, realizzando in bronzo figure femminili che vanno dai ritratti della moglie, a temi più o meno scopertamente erotici, come l'artista con la modella, gli amanti e lo striptease. Nel 1965 si completa l'acquisto del terreno dove sarà edificato il Museo Amici di Manzù, in Ardea, alla confluenza di due corsi d'acqua. Fosso di Sant'Antonio, che si getta nell'incastro, un corso d'acqua leggendario, presente nelle Neide e nella storia di Roma, menzionato nell'assedio di Ardea da parte di Tarquinio il Superbo.